Lavori all'acquedotto di Capodorlando nelle giornate di lunedì e martedì? Sì, dei lavori urgenti alla condotta d'adduzione all'acquedotto al serbatoio che c'è ai piedi del Monte della Madonna ci hanno costretto a intervenire urgentemente per evitare possibili disagi all'erogazione dell'acqua. Quindi interromperemo l'erogazione per qualche ora per intervenire sul posto ed evitare possibili disagi. Quindi chiediamo alla popolazione di rifornirsi nell'eventualità per le urgenze, però non dovrebbero esserci grossi disagi. Dopo qualche ora ripristineremo tutto il servizio. I lavori quando saranno? In che orari? Lunedì mattina dalle 10 circa all'una verrà interrotta l'erogazione per riprendere subito dopo e martedì qualche ora in più per consentire alla ditta di Barcellona che eseguirà i lavori di ripristinare l'efficienza e la funzionalità del servizio. Voglio dire e garantire alla popolazione che non ci saranno grossi disagi e che questi lavori ci permetteranno anche nel periodo estivo di avere la garanzia di un servizio ottimale.